Voyage au bout de la nuit, 1932 Viaggio al termine della notte, o meglio Viaggio nel fondo della notte Romanzo di Louis-Ferdinand Détouché Che adotta lo pseudonimo di Céline Nome della nonna materna Il personaggio principale è Ferdinand Bardemus Isocrono di Céline Ritratto e proiezione dello stesso narratore Un uomo tormentato dall'infinito Intento a cercare una punizione per l'egoismo universale Malatto della voglia di saperne di più Che cerca nella notte le risposte ultime Quelle che nessuno ha il coraggio di affrontare Perché è questo che si cerca nella vita La più grande pena possibile per diventare se stessi prima di morire Fa dire a Molly La prostituta che conosce durante il periodo trascorso a New York Uno dei personaggi che egli ama e ci fa amare Si tratta di un viaggio che tenta di scoprire un senso Nella grovigliata trama dell'esperienza umana Non una teoria, ma il cuore della vita Un itinerario nel cuore dell'uomo In cui a dominare sono le emozioni, sempre Basato su una immaginazione emotiva e smascheratrice Non ci sono grandi panorami Se non umani Bardemousseline si addentra nell'uomo Nel proprio sé È un'avventura che va letta come una forma di endoscopia È un viaggio interiore Dove la scrittura rimane un'operazione di scavo Scrittura, il linguaggio di Bardemous Vivo, vero, il classico parlato argotico Un linguaggio quasi sputato Perché serve a rendere testimonianza di come siamo Davvero noi umani Ci sono gli estremi, ripeto Per una vocazione allo smascheramento E mentre tradisce l'ingenuità dell'assunto nichilista Bardemous porta alla luce il nucleo del dolore e della rabbia Che condivide con la razza umana Questa cozzaglia Verso la quale non può che provare pietà È la pietà il segreto della sua misantropia Le pagine sulla guerra Sull'esperienza in America Nella fabbrica della Ford L'incontro con Molly Sono indimenticabili Un viaggio che va dalla vita alla morte Che giunge dall'altra parte della vita In una profonda, tormentosa notte interiore Che accoglie nel proprio silenzio Le infauste verità dell'esistenza umana Ma illuminate dalla luce della poesia Via questa voglia di scappare da ogni posto Alla ricerca di non si sa cosa Ma di cui non si può fare a meno Il principio è l'emozione Il sentimento della vita Bardamuri assume, credo La disperazione del nostro secolo L'aura di maledettismo Che ha circonfuso tanto il protagonista Quanto l'autore Sono riconducibili alla disturbante carica di verità Che attraversa il viaggio E che mette impietosamente a nudo Sia le misere dell'individuo Sia quelle ben più gravi e profonde Della società in cui si muove Personaggio delirante Visionario Ma al tempo stesso realistico Che non può lasciare indifferenti Che ha lasciato un segno indelebile nella mia vita La vita in fondo è questo Una scheggia di luce Che termina nella notte Mi sono commosso